segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la situazione in sicilia l'aggiornamento è minuto per minuto tutti e tutti quelli che si occupano di spegnere gli incendi stanno facendo il possibile e l'impossibile e quindi bisogna essere grati ai vigili del fuoco alle guardie forestale anche ai da tanta gente che si presta volontariamente eccetera quindi quando c'è l'emergenza si mette in gioco tutto evidentemente queste forze non sono nelle condizioni di affrontare tutte le emergenze e quindi vi sono anche dei roghi che non si spengono delle case che si incendiano ma non c'è niente che fare quando è il momento critico le forze per affrontare questo momento critico non sono sufficienti mi colpiva però il titolo l'abbiamo visto prima della tua prima pagina di oggi caldo record rivediamola è verde flop all'isola africana che sarebbe la sicilia servono milioni di alberi cioè mi incuriosisce il fatto che insisti su questo aspetto non denunciando invece i terribili disservizi che riguardano i siciliani e i tanti turisti che sono in sicilia per esempio pensiamo alla situazione all'aeroporto di catania ieri è stato chiuso per alcune ore quello di palermo appunto per il problema incendi questa questa degli aeroporti è una questione anch'essa strutturale che deriva da una ovviamente mancata previsione e da una bisogna evitare che le cose accadano nei limiti del possibile perché poi sull'impossibile non si può far nulla che nell'aeroporto di catania sia successo il cataclisma perché si è incendiato un condizionatore è una cosa che la magistratura dovrà appurare e che poi gli incendi hanno l'ambito l'aeroporto di palermo è un'altra cosa che dovrà essere vista quindi non è se mi consenti questo mio commento non riguarda tanto il contingente ma quanto cosa c'è prima del contingente vale a dire vale a dire la prevenzione e bisogna che entriamo nell'ordine di dei cosa che non è stato fatto in questi 70 e rotti anni di Repubblica che tutto va fatto con la prevenzione allora tutte le regioni dovevano fare le mappe idrogeologiche per ovviamente prevenire questi cataclismi che vengono e verranno non c'è nulla da fare allora se si alzano gli argini nei fiumi questi non esondano se si riparano i costoni delle montagne non cadono e così via quindi è necessario che i governi questi hanno una grande responsabilità tutti quelli precedenti e facciano dei programmi seri per sistemare il territorio e naturalmente il ministro attuale mio concittadino Nello Musumeci che oggi ha la delega per la prevenzione civile deve fare il possibile per farsi mandare queste piante per organizzare un sistema che funzioni perché in questo momento non c'è nulla da fare non essendo sistemato il territorio e non essendoci neanche le strutture necessarie le cose vanno come debbono andare e poi raccogliamo i danni ma ci rendiamo conto Aspetta, aspetta, aspetta un attimo fermiamoci qui direttore perché già abbiamo messo a fuoco vari aspetti e vado da Vara Borsetti